Il Consigliere Comunale ci traccia un bilancio secondo lei della situazione attuale di Agropoli, come la sta vivendo anche proprio all'interno essendo appunto un Consigliere Comunale? È una situazione chiaramente che risente molto di questo ricorso al Tar, perché certamente nessuno di noi sa che cosa succederà il 10 ottobre, è stata ancora rimandata la decisione del Tar e quindi veramente mi sembra quasi una spada di Damocle su quella che è la politica agropolese, perché ho l'impressione, ma insomma credo che tutti quanti se ne accorgano che ci sia una campagna elettorale continua. In politica la cosa migliore è quando una compagine vince, una compagine perde e quindi nel rispetto della decisione popolare ognuno può svolgere il suo ruolo. Quello che i cittadini hanno scelto per la maggioranza è quelli di noi che sono stati scelti per fare la minoranza, che è un ruolo di controllo, un ruolo importante, ma in questo momento io sento molto questo peso di una campagna elettorale continua e pertanto purtroppo dovremo aspettare perché non è semplice capire che cosa succederà o se mano a mano questa questione si sta portando per le lunghe proprio perché perde poi di forza, è come una tempesta che comincia con grande vento, grande pioggia, poi mano a mano si allenta nel tempo. Vediamo, siamo in attesa di capire che cosa sia successo, come sono andate le cose, se veramente ci sono delle importanti decisioni. Lo sapete le importanti decisioni potrebbero essere, potrebbero essere in un panorama futuro quello che il Tar decida che si vada a rivotare in alcune sezioni perché i conteggi non si sono trovati e non sono trovati perché anche il giudice Togato, che fu chiamato a controllare le schede, le inviò egli stesso alla procura proprio perché non erano dati diciamo corretti o quantomeno a lui non sembravano corretti, altrimenti si vendila in città che si potrebbe addirittura rivotare totalmente e quindi ricomincerebbero le candidature, quindi delle compaggini politiche che si verrebbero a creare e di sindaci che si propongono. Questa è la realtà di questo momento.